E' proseguita questo pomeriggio davanti ai tifosi rosa-nero la preparazione della squadra di Sannino in vista della trasferta di Torino contro la Juventus. Il Palermo ha sostenuto una partita d'allenamento allo stadio Renzo Barbera con la partecipazione degli allievi nazionali allenati da Rosario Compagno. Josip Ilicic e Fabrizio Miccoli hanno regolarmente lavorato con il resto dei compagni. Sannino ha fatto svolgere i suoi tre partitelle dove si sono messi in evidenza Abel Hernández e Boselli. Il tecnico ha provato anche Fauline a centrocampo che ha disegnato perfette geometrie per i compagni eretrando donati in difesa. E chissà che proprio questa sia la novità che il mister rosa-nero impiegherà domenica allo Juventus Stadium per contrastare la qualità della corazzata bianconera a un passo dallo scudetto.